Buon pomeriggio a tutti, siamo qui per le nostre riunioni con le arte e scienza e fatemi fare un po' i Gianni Minoli della situazione, quindi parto con Davide Ordani da Cornaredo, ha studiato e lavorato verso i più grandi cuochi del mondo, dal quartiere Marchesi all'Alberrus, all'Enducas, ha preso il mitico ristorante Do nel 2003, Ambrugino d'Oro nel comune di Milano nel 2008, questo per chiunque vive a Milano una grande non efficienza, è stato ambassador dell'Expo 2015, Stella Michelin, quindi un curriculum ricchissimo e vista la vita che fanno i suoi colleghi posso dire uno chef che sta in cucina al contrario di tanti che stanno in televisione, devo dire l'unica cosa che è la mia invidia personale per la pubblicità Master o Pasta, quella con Roger Federman, questo fatto che io gliel'ho sempre invitata, quindi perché questa scelta? Ha detto che è un federasta lui Sì, è vero Sì, sì Caldo mi ha colpito, scusate No, cosa devo dire? No, no, buongiorno a tutti Sì, sì, no, soprattutto perché la scelta di non essere un protagonista televisivo ma di continuare a stare in cucina? Non è che nella vita uno possa fare quello che vuole, uno deve decidere, poi se altri decidono di non sceglierti non ci vai Televisione ai cuochi fa bene, facciamo veramente un lavoro duro in una maniera bestiale, se poi hai uno spiraglio per poter farti notare di più, per essere più noto, per avere più successo va bene Noi nel nostro piccolo abbiamo deciso una linea di comunicazione da prendere e l'abbiamo imboccata, mantenendo fede all'idea soprattutto del lavoro che io faccio Provo, anzi devo dire ci riesco abbastanza bene a predicare e razzolare bene, che è la cosa migliore che mi fa vivere meglio, che mi fa sentire tutti i giorni gasato di alzarmi alla mattina e di andare a lavorare con il criterio giusto, con l'approccio giusto alla vita E da qui parte tutta l'idea della cucina pop, tutta l'idea dell'equilibrio dei contrasti, tutta l'idea dell'etica nel piatto e nel rapporto umano, tutta l'idea di quello che è il rispetto Parlano tanto nel calcio, respect sulla Champions League, va bene, devo dire che in cucina il fattore C calcio-cucina c'entra molto e credo che sia molto indicate queste cinque parole che ho detto per sì che uno faccia il lavoro in maniera etica, in maniera pulita Poi la televisione naturalmente se c'è qualcosa in più da fare, se c'è qualcosa da fare, si fa, se no faccio un imprenditore anche, la più grande soddisfazione è vedere che l'attività, le relazioni umane con i miei ragazzi funzionino e che tutti i giorni ognuno sia sul pezzo Perché poi in effetti ognuno di noi dovrebbe dipendere solo dalle sue possibilità, se comincia ad agganciarti ad altre cose devi sapere che poi o prima o poi finiscono, però nel momento in cui finiscono devi stare in piedi E quindi il bilanciamento non è facile, noi abbiamo tante relazioni, abbiamo 40 aziende con cui collaboriamo, con le quali io posso fare a meno da domani mattina E non sono queste aziende che permettono alla mia attività e ai miei ragazzi di essere, di proliferare, di fare un lavoro quotidiano, di essere, ripeto, felici e di far funzionare un'azienda E quindi, visto il rapporto con i ragazzi, uno è sempre stato a scuola, no? Io vedo l'istruzione nella grande cucina un po' come un rapporto quasi artigianale, maestro allievo che riprende un po' quello che è il logo del Politecnico, dove vediamo Euclide che insegna la geometria a pochi allievi, no? Come siamo costretti ora a classi di 200-250 Quindi le cose sono un po' cambiate Quindi, andando a scuola dai grandi maestri, cioè, com'è stato questo rapporto? Che cosa è rimasto in te di loro? Devo dire che ho seguito un iter della carriera che ho fatto fino ad ora, analizzando il quotidiano In primis da Gualtiero Marchesi, dove fu il primo incontro che mi portò dentro al mondo della grande cucina Parlo oramai di 35 anni fa, quindi quando lui iniziava la totale rivoluzione della cucina italiana dove mi presentai un giorno con mio padre, mio padre mi disse, questo qua è un grande cuoco Non conoscevo naturalmente, perché 35 anni fa la cucina non si masticava come ora Poi io iniziavo a scuola, avevo più la testa nel pallone in tutti i sensi, giocavo anche bene Sì, sì, perché non so se lo sapete, è stato un calciatore che ha avuto la carriera troncata per un infortunio, diciamo Perché non ero abbastanza furbo nel campo, però segnavo, quindi ero già orientato su lì Quindi la testa nel pallone in tutti i sensi, poi sliding doors Una mattina decido di fare questo torneo che non dovevo fare Tipe Perone, devo per forza cambiare, secondo il cassetto era quello della cucina Da lì parte tutta l'idea di approcciare a Gualtino Marchesi, il primo incontro fu quello che Marchesi disse a mio padre Questi ragazzi sono come spugne che assorbono, assorbono, assorbono e un giorno li lasceranno Questa frase mi ha toccato, che ancora oggi sono qua a ripeterla, l'ho scritta in tutti i libri E continuo a ripeterla ai ragazzi, perché credo che sia la cosa più esplicativa di quello che uno possa fare Ascoltando una persona più anziana di lui e soprattutto con più esperienza Perché il maestro è comunque la persona che ha più esperienza e che è anche più anziano Chi fa il maestro che è più giovane, secondo me, nel rapporto della cucina non è vero Perché è pratica, la pratica la fai col tempo, il tempo passa e quindi uno invecchia Cioè l'età deve essere corrisposta al titolo E quindi passando dall'imparare all'insegnare Scusi, finisco giusto per chiudere il tema Poi da Gualtino Marchesi c'era una competizione in cucina nel tipo due cuochi italiani All'epoca 20 tedeschi perché c'erano più tre stelle in Germania Con Winkler, Witz, i vari tre stelle che c'erano Quindi comincio a frequentare, a parlare, a masticare un po' l'internazionalizzazione Di quello che era in Italia, che in Italia non esisteva E quindi da lì sono in competizione dalla mattina alla sera con me stesso Figuratevi con gli altri Quindi decido di cominciare a sentire questi ragazzi Comincio il viaggio alla ricerca Marchesi mi manda le gavroche a Londra, tre stelle all'epoca Dove inizio a lavorare io e Gordon Ramsay Io alle carni, lui ai pesciano tutti e due con me Per imparare una cucina classica e per approfondire un po' l'inglese E poi dal classico passo a un classico francese Perché un cuoco deve per forza fare la Francia Non facciamo troppo i nazionalisti dove l'Italia è più brava della Francia Le basi, la cultura della professione Ancora oggi c'è un rispetto bestiale Quindi sono passato a un cuoco che faceva una cucina classica francese Con prodotti italiani, Alain Ducassa a Monte Carlo E per chiudere il cerchio la parte pasticceria Mi mandò Ducassa a Parigi da Pierre Hermé Ancora oggi Pierre Hermé Tutti questi quattro maestri, a parte il primo che a me è mancato tre mesi fa Sono ancora oggi dopo 35 anni ai vertici Non delle classifiche Ai vertici del sold out nel ristorante Del servizio mezzogiorno e sera La ricerca del prodotto della materia prima buona Quindi con queste scuole Mi ritrovo perché alla fine ho azzeccato quelli giusti Ho beccato quelli giusti, non ho beccato le meteore E ancora oggi, la settimana scorsa a Ducassa era da me al ristorante Pierre Hermé l'ho visto a Parigi Come si chiama, Albert Roo, ci sentiamo Quindi c'è questa relazione Il passaggio tra l'alunno e il maestro Però l'alunno non deve mai dimenticare che il maestro gli ha dato tanto E molte volte si crede che l'alunno più bravo del maestro Può anche essere, probabilmente ha più energia perché è più giovane Il maestro è più vecchio Però la cultura, l'intensità che queste persone mi hanno dato E con le quali parlo ancora oggi Che si mettono a cercare, ripeto, il prodotto A cercare a parlare con i cuochi giovani A dire rispetto Cioè credo che sia stato proprio il cerchio che si chiudeva Per comporre una carriera universitaria da cucina Continuiamo a menarcela che adesso le cucine devono diventare università L'università che fate voi, che fate qui è una cosa Il voler forzare la mano sull'università della cucina Secondo me è andrei piano Noi siamo artigiani che dobbiamo andare a casa bottega A imparare un lavoro artigianale La mano collegata alla testa va bene Perché deve essere Ma tutto quello che è un po' più dimontato Fa parte di quel glam che c'è oggi Di qualcosa che vogliamo a tutti i costi sentirci dire Da tutti perché cucina, perché tutti mangiamo E perché tutti dobbiamo giudicare Quindi è un sistema un po' falsato Che però ci rende felici perché Potremmo fare a meno degli ingegneri ma non dei cuochi Perché dovremmo sempre mangiare Questo è assolutamente vero E siccome ci sono tanti che dicono di essere stati a Harvard Davide Oldanici è stato sul serio E addirittura l'Harvard Business School L'ha praticamente studiato E ha detto che il suo modello di business è qualche cosa Ma dove l'ha letto questo? Sul sito Sul mio curriculum? E che naturalmente deve essere stesso anche ad altri business Ma è veramente così? Che cosa è successo? Com'è andata? No, è andata che un professore incuriosito Di aver sentito parlare di questo nuovo ristorante Ormai un po' di anni fa Dieci anni fa o più Venne a provare E poi torna un'altra volta con altri due professori E mi vissero Guarda Non può essere che un'attività funzioni così Con questo affordable price Con questa qualità Ci mandi numeri Anche lì stavo mandando a stendere Perché cominciavano a rompere No, a rompere A fare le cose loro Non capivo che ero davanti a Harvard Perché Voglio dire Ragazzi Non capivo bene Sarà mica la finanza Il fratello che frequentò il Politecnico Mi disse Guarda che magari Harvard Ma almeno ascolta lì Perché E quindi Così Mandai un po' di numeri Su numeri Su numeri Alla fine questi fecero Non una lezione ad Harvard Ma una case history Perché è interessata Si può googolare E comprare 8 dollari Adesso Adesso è uscita 4 anni fa Da 4 anni fa La mia attività è cresciuta Sono cresciuto anch'io Piano piano Si sta espandendo Come io pensavo Quindi evidentemente Anche loro Hanno centrato in pieno Una case history Di valori Perché? Perché è un'attività E le attività sono numeri Alla base dei numeri Per fare cucina Bisogna avere i valori Quelli che ho detto prima E quindi Decisero di farla E quindi Sul curriculum Non l'ho messa Non mi candido Però No è meglio stare in cucina Guardiamo un po' al mondo Il mondo si sta urbanizzando Il 56% della popolazione Fatela vedere L'ho vista lì adesso Ecco questa qua Do not copy Or post Quindi il mondo si sta urbanizzando Il 56% della popolazione Oggi vive nell'area urbana Si pensa al 66% Da qui a 2050 Lei sceglie di aprire Il ristorante Non è un proscenio Di una grande città Ma è una piccola città Con Naredo Come mai C'è il goscello Per questioni Di caso di forza maggiore Perché avrei Voluto aprire Vicino alla Maddalena Avrei voluto aprire vicino A Big Bang O a Tokyo O a Milano E Era un momento in cui dovevo Decidere di iniziare Di ripartire Perché fino all'epoca Fino al 23 ottobre 2003 Avevo lavorato per Costruire un sogno E quindi poi O lo fai o non lo fai Quindi lo fai Lo fai Ovunque ti capiti Perché le idee Alla fine Sono quelle che si impongono Quando parlo di idee Mi viene in mente Ci siamo imposti al mercato Con un Blue Ocean Non Red Ocean Quindi L'idea paga Che tu sia A Cornaredo Poi in effetti È vicino a Milano No no È vicino Sì sì O che tu sia A Rosas Come lo era Ferran Adria O che tu sia In centro Se tu La tua idea La trasmetti bene Non in politichese E quindi cucini bene Riesci ad avere continuità Hai rispetto delle persone Voglio dire Puoi sbagliare Però Poi non reggi 15 anni Sold out Sempre E quindi è questa costanza Che ci ha portato a dire Che la mia idea La nostra idea Oramai Che condivido con i ragazzi Sia un'idea che Voglio dire Anche sulla luna Potrebbe Potrebbe Un po' d'aria Però La gente è disponibile A fare le esperienze Che mancano E dico sempre Che andiamo troppo veloci Vedi mondo social Confrontato alla cucina Rispetto all'andatura O all'andamento Che potrebbe avere un uomo Un umano E quindi Io mi sono ritagliato Un lavoro Dove l'uomo Si deve per forza fermare E quindi c'è una relazione diversa Che si sta ora con Chi viene a mangiare l'ospite E chi cucina Cioè Devi dedicare del tempo Non è un like or not Una cosa Una bombon veloce Dove prendi follower È una cosa che Ti deve Soddisfare Per quanto è È Uguale a quella Che il tuo lavoro Ti deve dare Cioè La pazienza Il tempo Il tempo È la parola chiave Per cucinare Il tempo È la parola chiave Per stare in cucina Sapere che se cucini bene Se scegli prodotti Quindi se Tra virgolette Perdi tempo O lo guadagni Ti può Questo tempo Ti può ritornare Perché ti dà Una vita Migliore Perché molte malattie Avvengono perché Per il troppo cibo Quindi non è vero Che siamo così in crisi E c'è crisi ovunque Il cibo Sono tutte balle Quando si dice che Il cibo costa Aumentano i prezzi Del 10% Aumenta la pasta Del 10% La pasta costa 90 centesimi Perché se uno fa 60-70 grammi di pasta Più un sugo 100 grammi Se lo fai in casa Non sono i costi Che ti mandano È l'economia applicata Questa Quella di cui parlo Anche a Harvard E quindi Credo che Il tempo sia Proprio La base Da dedicare Alla cucina Per poi Recuperarlo Quando ti dà Una vita Un po' più lunga Il professor Veronesi Lo diceva Io appoggio La fondazione Ecco Io faccio un po' Ora Un percorso Nella storia dell'uomo Cioè L'uomo Sostanzialmente Per millenni Si è solo nutrito Era solo L'esigenza base Di arrivare In fondo Alla giornata Con le calorie giuste Pensiamo A un periodo Dopulenza Il rinascimento La cucina Era basata Sostanzialmente Solo su arrosti La cucina italiana Del 1600 1700 Che nel 1800 Era sostanzialmente Fatta Per nutrire le persone Anzi Cibo Di scarsa qualità Per arrivare A Diciamo A Arrivare Ad essere Diciamo Cucina italiana Quella che tutti Ci invigliano Un po' Nel mondo Bisogna aspettare Questo commerciante Di Forlimpopoli Che è il Pellegrino Artusi Che inizia a scrivere Questo libro Della scienza In cucina E Racconta Ad un'Italia Dove ci sono Tante regioni Tante materie Prime diverse Dove si festeggia La stessa Diciamo Lo stesso Natale La stessa Pasqua O altre feste Ma con ricette Diverse E questo Ci ha permesso Di dare La prima forse Coscienza Di paese Arriviamo ora Nel terzo millennio Dove addirittura Siamo Così globalizzati Che spesso Non si sa nemmeno Dove siamo Un po' L'ha già accennato Ma questo processo Evolutivo Come se lo sente Suo Che cosa dice Di questa storia Bisogna conservare Cioè Più andando Verso la tradizione Cioè Quella che è stata La nostra Sviluppo storico Della nostra cucina O più Essere aperti Al mondo E alle contaminazioni Non può esserci Innovazione Se non si conosce La tradizione Quindi A suo dato Che la cultura Faccia parte Dell'uomo Per crescere E quindi Uno deve Un cuoco Deve conoscere Dall'Artusi Prima ancora Escofie A Brillanz Savarene Tutta la storia Sapere che L'uomo primitivo Faceva Trenta chilometri Al giorno Per cacciare E poi mangiava E uno dovrebbe fare Come dice Alessandro Il mio caro amico Trenta chilometri Al giorno Per poi poter Mangiare E stare bene Quindi Io sono dell'idea Che l'evoluzione La storia Vada bene Vada bene Soprattutto fa bene Un po' Alla parte psicologica Ti fa star bene A dire Che si mangiava Nel medioevo Queste cose Molto untuose Molto Non armoniche Pesanti Non tracciabile Non c'erano prodotti Tracciabili Quindi Tutte queste cose Fanno bene Da sapere Fanno bene Nel vedere i film Perché ti rallegano Poi la vera storia È che al giorno d'oggi Rispetto a 30 anni fa Anche quando io ho iniziato Devi solo badare A una cosa A un paio di cose Che sono Anzitutto Le porzioni Sicuramente Più si va avanti Più si ha La cultura Ci si fa Una cultura Perché è desiderosa Di sapere Quindi Prodotti di alta qualità Che ci sono Che sono tracciabili Che non sono nascosti Che non sono fatti Così Come quello che succede In alcuni mercati neri Della carne Piuttosto che del pesce Quindi una volta Che abbiamo la tracciabilità Il prodotto è sano Bisogna solo mettere in pratica Quello che è Un po' Il nostro Star bene Senza andare oltre Alla gola Cioè Proporzionare La grande qualità Alle piccole quantità Non come 30-40 anni fa Quando si diceva Tanto del buono Si mangia E il cattivo poco Quindi questo È secondo me Il paragone da portare Poi ce la giochiamo Se è una ratatouille di melanzane O una caponata O una ciambotta Cioè Vedila come la vedi Ma è tutto in come la vedi Come dice Liga È comunque quella Ratatouille di verdura Quindi Più che raccontarci La cucina È quasi Come il racconto Da bar Del calcio Quando si va al bar Nel paese Sentivo Sento Parli di calcio Parli di niente E la cucina È diventata un po' Questa cosa Bisognerebbe fare Il prossimo passo Il prossimo passo È proprio questo Cioè Non stare a discutere Che io faccio il tortellino Più buono del tuo Perché tu metti Maiale Vitello E manzo Io metto manzo Vitello e maiale Invertiamo Quindi non è più Un discorso da bar La cucina È un discorso Di forma E di concretezza Che cambia Si evolve E l'evoluzione È proprio Andare a fondo Della cucina Del prodotto C'è molto fumo Intorno Perché fa bene Emilia Però alla fine Carne, pesce, frutta e verdura Sono quattro ingredienti Che noi da una vita lavoriamo La differenza tra l'epoca e oggi È che adesso Hai una garanzia maggiore Di tracciabilità Questa tracciabilità Vuol dire sicurezza alimentare Questa sicurezza alimentare Vuol dire vivere bene E siamo arrivati Ai concetti Della cucina popolare Praticamente Sì Cucina popolare Tra virgolette Perché Il suo slogan Sì Cucina popolare Pop Non è un abbreviativo di popolare Ci tengo a precisarlo Pop è lo scopiettivo Dei pop corn Per cui è stato chiamato È stato preso il nome Per la pop art La pop music Quindi ho aderito Il primo inizio era popolana Perché comunque lavoravo Il prodotto del territorio C'era un ambiente Determinato primo Il primo ristorante Fino a due anni fa Poi c'è Se le persone sai La routine è la cosa più odiosa Da fare È veramente l'arma peggiore Che uno ha in mano Continuare a fare la stessa roba Quindi si deve evolvere L'evoluzione della cucina pop È stata quella Di non essere più un diminutivo Ma di essere un Come novel cuisine Come destrutturata cucina Come pop Che indica Un tratto Che si può prendere Che sia comunicativo In maniera pulita Pop è veloce da ricordare E ripeto Pop Molte aziende Di moda Di orologi C'è stato il periodo Fino a un anno Ancora adesso Che lanciano il coso pop Perché evidentemente C'è una fascia di mercato Che ha bisogno di quello Però non è il pop popolare Basso profilo È un'identità Soprattutto nella cucina Visto che siamo stati i primi a farla Dopo di noi Nel 2004 È nato Un ristorante Che si è inventato La bistronomia A Parigi Ma è arrivato dopo Che poi Bistronomia È una parola Che si capisce Tra bistro e gastronomico Che sono La trattoria Il grande ristorante È il grande ristorante francese Che ha poco valore Cioè è più Trovare una parola di marketing Per vendere un prodotto Che trovare Un'identità Prima Fai il progetto Poi chiami il progetto In base a quello Che tu hai messo in pratica Non so se è chiaro Il progetto Era quello di fare Il territorio Rispetto delle stagioni Etica E da tutto questo Chiacchierando con una persona Più volte è venuto fuori Questo pop Che poi Essendo un'idea E non avendo Un'espansione mediatica Così esagerata Worldwide Devo portare avanti Però c'è un'evoluzione E l'evoluzione Fa parte di quello Che è La non routine Che tutti non vorremmo Infatti è vero Che c'è stata un'evoluzione Anche Quello che è il progetto Quello smart food Dedicato A chi forse Ha meno tempo Ma deve comunque Mangiare bene Io qui mi ricordo Una delle cose Ero appena entrato In quest'ateneo Forse stavo facendo la tesi Il mio professore mi fa Diceva Mammasi Lei non mangia Ha detto No professore Piggi un panino Mi guardò E mi fece Barbaro Questo fatto qui Un po' mi ha segnato Devo dire Però è vero Cioè oggi Il tempo ci fa ingurgitare Poi ci troviamo La gastrite Insomma devo dire Questo è Non lo so Bisogna decidere un po' Come vogliamo morire Dobbiamo deciderlo solo noi Lo possiamo decidere solo noi E si spera di stare il più a lungo possibile Però sicuramente Il fattore cibo È quello su cui Dovrei Cibo E sport E movimento Che sono gli unici due ingredienti Importanti della vita Dovremmo decidere come Come prenderli Quindi ho una mia dieta personale E me la faccio Perché secondo me Funziona E perché Mi fa star bene Credo che sia veramente importante Riflettere sul tempo Da dedicare Il momento in cui uno mangia E bisogna parlarne Riparlarne Riparlarne ancora E l'altro segnamento fu Non c'è niente di così urgente Di così importante Che impedisca a Luna Di andare a tavola Ma questa è proprio È la verità Ed è quel momento Che tu mangi un panino Che fai un pranzo Una cena di gala È il momento in cui Tu ti ritrovi Ma soprattutto Hai il piacere Di condividere con le persone Il concetto di convivio Cioè Questi sono secondo me I semi importanti Da portare avanti Perché poi accade Poi grazie a Dio Adesso si sta differenziando un po' Quindi la gente che viene Non sta più tanto Al telefono Foto Cioè Sanno che vengono al DO Sanno che comunque Hanno delle aspettative Quindi Si dedicano a parlare Con i ragazzi In sala A chiedere del piatto Ad assaggiarlo subito Quindi Siamo già Nella fase in cui Se ti imponi Con un'idea pulita Non c'è più quello Che viene lì Ti serve il piatto E sta Cinque minuti così Intanto il piatto si raffredda Poi fotografa Poi tutto è permesso Va bene Però L'approccio sta Cambiando Perché Quotinanamente Abbiamo lavorato Sul prodotto di qualità Devi educare la gente Non devi dare Non devi fare l'avvocato Degli italiani Devi educarla Devi educarla La gente A Non sbagliare Ma non puoi dire Non devi fare le foto Oppure Mangia questo così L'ospitalità Di un ristoratore come me Di uno che accoglie È solo Lo faccio solo perché Ho voglia Di sorridere alle persone Non perché sono obbligato E quindi questo Imputa poi L'accoglienza E far vedere che Una tavola È libero E da qui Viene poi Il voler Imporre la propria idea Con delicatezza Per far sì che poi La gente torna E si rende conto Quando a tavola È il momento migliore Della vita A tavola non si invecchia Nella parte finale Vorrei un po' Alzare La visione del mondo E tornare un po' A quello che è stato Espo È stato ambasciatore Ed Espo Mi ricordo Il ristorante Subito lì All'ingresso E faccio due conti Da ingegnere E se penso Che una dieta normale Richiede più o meno 1800 kcal al giorno Cioè Se faccio da ingegnere Ancora la conversione Unità di misura Sono circa 90 watt C'è una lampadina Che ci abbiamo Cioè noi per stare accessi Siamo equivalenti Di una lampadina Nel mondo ci sono però 7 miliardi di persone Che quindi hanno Un bisogno Nutrizionale Che sono Mi sono segnato Proprio i numeri Di 600 miliardi di watt Che è praticamente Il 4% Del budget energetico Del paese Si sta parlando Di numeri stratosferici Poi questo qui È naturalmente La media del pollo Perché se prendo Paesi sviluppati Che hanno l'8% Della popolazione Ma consumano Il 41% Del fabbisogno Energetico Si capisce subito Che c'è qualcuno Che ha un eccesso di cibo E altri che non lo hanno Però Il mondo Industrializzato Sta cambiando Cioè si sta urbanizzando Ecco che è arrivata Il cibo industriale Cioè la mandata L'abbiamo Trasportato Cioè io voglio mangiare La percoca della basilicata Voglio La ciliegia di vignola Voglio mangiare La mozzarella di mandara E che cosa faccio In questa maniera Ci deve essere qualcuno Che me le porta Con un camion refrigerato Deve essere tutto confezionato Con due input Che aumenta enormemente Il valore energetico Del cibo Indipendentemente Dal valore nutritivo Cioè È circa 10 volte Cioè 1000 watt Più o meno Di valore energetico Del cibo Che arriva sulla mia tavola Per mangiarne Un decimo Di calorie E soprattutto Dopo c'è tutto il problema Degli imballaggi Che Non so più come smaltire Allora In quest'ottica qui Come posso Diciamo Educare Il Cittadino Cioè Il grande cuoco Come può dirmi Cerca di avere Un comportamento virtuoso No qui bypassa Il grande cuoco Qui si entra In un altro settore Che è quello Del business Per forza Che ammazza poi La parte artigianale E culturale Dell'Italia Credo che questo passaggio qua Sia quasi alla fine Perché con la riscoperta Grazie a Dio Di tutto il territorio italiano Abbiamo riscoperto Che il cibo buono Deve essere raccolto E mangiato L'abbiamo riscoperto Perché nella GDO Grande distribuzione organizzata Se guardate Lo shelf life Delle cose Piano piano Se fino a 5 6 Un anno Di super Conservanti Dentro Quindi Prendi tanta roba La stocca Scaffale pieno E a posto E non c'è la qualità Adesso anche la GDO Sta cambiando Molti della GDO Stanno facendo i prodotti Quotidiani Cioè ci lavoro Nel backstage Vedo le cose Sono tutti a studiare Dei piatti anche pronti Sono tutti a studiare Dei prodotti di scelta Di qualità Del territorio Che Non so niente da dire L'esse lunga Che c'è qui È diversa Per fare un nome Poi potrei farne Mille altri O della COP Che c'è in Emilia O che c'è in Toscana Ci sono prodotti diversi Perché stanno In maniera Intelligente Anche i manager O comunque Chi gestisce queste cose Stanno ragionando Abbiamo il prodotto Del territorio A Parma Metterò L'affettato Che c'è a Parma O in Emilia O in Romagna Metterò le ciliegie Tal dei tali E faccio meno trasporto Quindi questo per dire Che ci si sta Anche nel grande mondo Della GDO Che è dove Credo ognuno di noi O molti di noi Vanno a fare spesa Si sta iniziando Con una cultura Del fresco E credo Sono molto ottimista Su questa cosa Che nel giro Di qualche anno Si avrà qualche risposta In più Cioè il territorio Lo mangi sul territorio La cosa che Secondo me Bisognerebbe pensare Anche molto bene Che l'Italia Dovrebbe lavorare Molto di più Sull'importazione Di persone Cioè noi siamo Un paese Che si è messo Lavorare sull'acciaio Su mille cose E non abbiamo capito Ancora O forse adesso Che dobbiamo solo Lavorare con il microclima Che c'è Con il territorio Che abbiamo Per importare delle persone Che sono amanti Dell'Italia Perché tutti quelli Che vengono Vanno innamorati Dell'Italia E quindi Facendo mangiare Tutta la parte Enogastronomica Dell'Italia Quindi facendo mangiare Il cibo italiano I luoghi Il vino italiano In loco Cambia Cambia L'effetto Cambia L'effetto Wow Cambia l'effetto Della qualità Reale E allora Secondo me Adesso si sta Lavorando Per questa cosa E così poi Cresce anche Un'economia Di un paese Un'economia Di un paese Umile Come l'Italia Visto che Come siamo Messi in questo periodo Adesso Parte di scherzi Credo che ci sia Questa parte Che possa funzionare Da sola Che abbia bisogno Di una spinta Che ci rende Diversi da tutti Perché la Germania La Francia L'Inghilterra Hanno altre belle cose Non hanno Questa facilità Nel poter fare Accoglienza Nel poter fare Anche business Con il paese Quindi Il forzare Di esportare Mozzarella Le mozzarella La più grande produzione Di mozzarella È fatta in Lombardia Adesso È vero La mozzarella Deve stare A temperature diverse Se la trasporti A una temperatura Più alta Per conservarla Dopo tre ore La mozzarella Non è più buona Soprattutto il grave errore Di mettere la mozzarella In frigo Che è una delle robe Quindi Il freddo Ha aiutato molto La conservazione Del cibo Da quando ho inventato Il frigorifero Però Dobbiamo usarlo In maniera intelligente Cioè Sappiamo tutti Che la spesa Possibilmente Va fatta Col criterio Pensare prima di comprare E pesare prima di cucinare Col criterio giusto Non bisogna riempire Bisogna Prendere meno E prendere fresco E questa è la difficoltà Nella gestione Del quotidiano nostro Quindi La cucina Sicuramente Come sta andando adesso Quel periodo Della grande industria È passato Perché anche la grande industria Sta capendo che Alcune cose Non Il comune cittadino Non le accetta più Perché è alla ricerca Di cose nuove Perché ci sono tante Trasmissioni Che fanno anche cultura Che ti fanno vedere Come vengono prodotte Le mozzarella Il grano padano Come un salame Come un ortaggio L'asparago rosa Di mezzago Che io utilizzo L'ha sconosciuto A tutti Perché c'è il bianco C'è il verde C'è il violetto Quello rosa Che è qua A 30 km Sono andato a raccoglierlo Per la prima volta Della mia vita La settimana scorsa Ed è È una cosa fantastica Perché ha un processo Di 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 crescita Con un terreno argilloso Non sabbioso Come quelli veneti Perché È in Lombardia Perché Se il contadino Non toglie La copertura Del cielo Del cielo Fanchia su E non gli fa prendere Il raggio di sole giusto Diventa bianco verde E quindi Esce dalla DOP Di quel prodotto E c'era pieno Di gente Comune Che è incuriosita Di questo asparago Allora La conoscenza C'è Se questo asparago Lo prendo Lo mando in Sicilia Da Ciccio Sultano Il mio amico Lui lo usa Il problema poi È la continuità Allora L'esploro Puoi fare Il fuoco d'artificio Lo fai una volta Perché ti arriva Però Non è giusto Ciccio usa Il fiore del cappero Che raccoglie fuori Dal suo ristorante Questa secondo me È l'identità Dell'Italia nuova E meno male Che ci stiamo accorgendo Perché Immaginate Quando morsicate Una mozzarella Così chiesce Tutto il latte Quanto è buona È quella che è fatta Dopo due ore Lo puoi fare Quella mozzarella Che si dice fresca Che ti arriva dopo un giorno Non è nella cultura Del napoletano Perché a Napoli Quelli che mangiano Le mozzarella Arriva la mattina Se non la mangiano Entro le tre Quattro Il pomeriggio È vecchia È vecchia È vecchia Dopo quattro ore E il giorno dopo Non si mangia più cruda La si mette Sulla pizza La si mette Sulla pasta Sì sì Tagliata Sul ragù Tutte le altre cose Perché è vecchia Immaginate che Qui pensiamo Che la mozzarella fresca Arrivi a Londra In giornata La giornata di due giorni E il terzo giorno Venga venduta È l'immagine italiana Ma non è quella Che abbiamo in Italia Non è quella La mozzarella La fanno in America Non è quella Che abbiamo qua Probabilmente è anche buona Perché La manifattura Magari la fanno anche buona Le mucche La carne buona A New York La mangi Quindi le mucche Probabilmente le stanno A levare anche loro Il sound Italian sounding Che ci hanno fregato È proprio questo Il sistema E dobbiamo accorgere Ci stiamo accorgendo E lo faremo sempre di più Che bisogna Importare la gente Qui Perché l'esperienza È qui E questa è la differenza Il forzare Io abbiamo Una cosa a Manila A Singapore Insomma Giriamo Però in questi posti Dove ho bisogno Della mia Materia prima Per fare la mia cucina Esporto dall'Italia Il prodotto Che mi può garantire La tenuta del viaggio Io parlo di un formaggio grana Stagionato E quindi sono sicuro Che non becca lo shock Della mozzarella O della ciliegina O dell'asparago Una pasta secca La posso fare Perché riesci Ma basta Cioè la forzatura Su ogni cosa Porta A una A un errato Un errato approccio Con il cibo E quindi con noi stessi Quindi bisogna A me a volte Accontentarsi Non è un caso Che noi facciamo Al ristorante La stagione Io drasticamente Il 21 di giugno Cambio Entra il colore rosso In cucina Perché inizia la stagione Perché il pomodoro La melanzana Che non è rossa Però La pesca L'anguria Tutte queste cose Non esistono al DO Fino al 21 giugno Fino al 20 di settembre E poi sparisce tutto Quando ho aperto il ristorante Quando ho aprito il ristorante Nel 2003 Ci fu il primo cliente E mi disse Dopo una settimana Veniva nella trattoria vecchia Che io avevo rilevato E mi dice Io propongo Ho fatto tutta la mia carta Precisa Studiata Per la stagione Questo arriva Come primo cliente Vorrei un'insalata di pomodoro Come prima E una bistecca Guardi C'è una trattoria nuova Veramente Era il 25 Tipo il 30 di ottobre Io la prima cosa Spontanea Guardi Non ho Non ho il pomodoro Come? Non ho il pomodoro? Non verrò più qui Non farete carriera Questo è il risultato La solita minaccia No va bene No va bene Quindi il fatto di dire No non c'è un pomodoro Questo è un esempio banale Però è la forza Nel rispetto delle stagioni E nel rispettare la propria idea Che non è un capriccio Perché io Faccio il figo Scusate Faccio il grande cuoco Ma ti devo dire di no E che tu devi capire Che il pomodoro A Milano Con la N finale Non Cioè Ottobre Non c'è La frittata di pomodoro Che la mia mamma mi fa Mi faceva Mangiavo il mese d'agosto Punto Poi la maggior produzione di pomodori Sapete dov'è? Dai vediamo chi lo sa Facciamo Possiamo Professore Possiamo Rettore Possiamo fare un esame Io Come ho insegnato a Parma C'è una grossa trasformazione di pomodoro Sì Parma Tra Parma e Piacenza C'è la più grande produzione Di solito uno pensa Napoli Sicilia Che è vero Ce ne sono Altri pomodori Però la più grande produzione La raccolta del pomodoro In estate vanno tra Parma e Piacenza A farla Tutte le multinazionali Si vede proprio il camion Da 50 quintali Si vede anche le persone Che vanno alla campagna Vanno a raccogliere i pomodori Da portare a casa Che rimangono nel campo Multinazionali stranieri Vengono qui a fare Il mercato del pomodoro E vanno a Parma e a Piacenza Quindi queste cose Dobbiamo saperle Uno pensa a pomodoro Se lo chiedete a dieci persone Dico Ah sì Salerno Va bene Ci sono Sì sì ci sono San Marzano Andiamo a vedere la storia Che ha fatto La trafila che ha fatto Per essere massacrato Come l'ha massacrato Questione come diceva Il mio amico Saviano Di tutto quello che c'è dietro Compreso il mercato nero della carne Compreso le bufale Compreso la mozzarella di bufala Che mangi il latte della bufala E poi la bufala È su cosa Su cosa mangia Su terreno qui in alto Allora bisogna essere specifici Nella tracciabilità del prodotto La cosa fondamentale Che ci può salvaguardare Da qui alla fine E io sono molto contento Perché c'è tanta attenzione Su questa cosa Allora adesso io mi confronto Quotidianamente Con persone che sanno Il ristorante E se loro sanno Io cresco Perché o da uno o dall'altro La notizia nuova salta fuori Allora per questo vi dico Faccio un mestiere bellissimo Per cui devi stare un po' più zitto E ascoltare E questo ascoltare Ti porta Ad avere Ad avere Cento volte di più La conoscenza Che poi Con i numeri Con le cose Ci si gioca un po' No? Perché Devi sparare i numeri Così a caso Tanto la gente Conosce poco Puoi andare sulla realtà Delle cose Un'altra Ecco Per chiudere Facciamo Un po' come faceva Nella vecchia pubblicità Dell'olio sasso Mimocraida Che aveva l'incubo Allora Io mi sono svegliato Ho visto l'incubo Per nutrire il pianeta Bisogna andare a mangiare gli insetti Io sono un carnivoro convinto Cioè Ma veramente Bisognerà finire lì? Ma guardate che non è così strano Anche se sono Non è che le cucini io E neanche le mangio Non è il mio momento Però Ne mangiamo i gamberi Eh ragazzi Cioè Se il gambero è cent'anni che lo vediamo E abbiamo mangiato un milione di volte Perché è così E questa cosa A parte che è colesterolo puro Però va bene Lo sapete no? Attenzione a non mangiare troppo Perché è colesterolo Pieno E ho capito Però Bisogna andare Insomma Spero che la morte vi trovi vivi Perché se no No però Non sono ancora pronto Sicuro adesso Da Quanti mesi C'è una legge anche in Italia Di una piccola produzione Le farine in Francia Stanno Cacao Barry Barry Calbo Sta facendo Nella pasticiera Sono arrivate delle farine Tracciabili Tutto pulite Per fare delle prove Perché comunque Hanno delle proteine Hanno delle Delle cose essenziali Che hanno Gli altri animali Ma il problema Non è Mangiare L'insetto Perché l'insetto In Francia Trent'anni fa Quando iniziavo Robuchon Già faceva Gli scarafaggi Per gioco Però Cioè Non nel ristorante Li serviva Però Come show Ne parlavano già Adesso qui Adesso è scoppiata Sta moda Ripeto Cosa c'è di strano Non lo mangio Non lo mangio E non ho neanche L'approccio io Di avvicinarmi adesso Però Ci può stare Non comprendo invece Quando uno dice Che il figlio vegano Che ha Un bambino vegano È più alto di 5 cm Di un altro Che mangia la carne E queste cose Non mi vanno Poi Sul fattore Dell'insetto Voglio dire Uno può scegliere Il problema Lo tocco io il tema Non l'ha toccato lei Il problema Del vegano È che per essere vegano Devi avere Cervello Perché se no Rischi Con la salute Perché tu devi compensare La proteina animale Con un'altra Che trovi Dove? Nel legume O l'abbinamento Tra il carboidrato E il legume Ma devi pensare Un bambino Secondo me Non è necessario Renderlo vegano Può essere un giorno Alla settimana Vegano come lo sono io O vegetariano Un giorno alla settimana Ma non può essere Perché È quella La parte sbagliata L'insetto Secondo me Di rifo Di raffa Arriverà Poi è bello Perché qualcuno Assaggia Per andare No ma ci siamo già Nella mia trasmissione Mangia come parli Con Pierluigi Pardo Non ce l'ho fatta ancora Ma credo che una puntata La faremo Sugli insetti C'è già qualche giornalista Specializzato Sugli insetti Io non lo mangio Cioè il gambero Però se ci pensiamo È quello La bruttezza del gambero È esagerata Una bella sogliola Un bel branzino È diverso Un bel pescato Ok io direi Ringraziamo Davide Oldani E lasciare la parola Se c'è qualche domanda Grazie Grazie Grazie